rio maggiore è la più orientale delle cinque terre è situata nella stretta valle del rivus mayor ora coperto il suo fascino si può apprezzare soprattutto giungendovi dal mare dove la vista si apre sulla marina e sulla schiera di antiche case torri dipinte con colori pastello sbarcando a rio maggiore si resta affascinati dall'alternarsi di viuzze stretti passaggi e ripide scalinate un tempo paesi di marinai ha visto negli ultimi decenni un sviluppo turistico senza precedenti la chiesa di san giovanni battista venne costruita nel 1340 dal punto di vista architettonico presenta monofore portali a ogiva e rilievi proto romanici probabilmente riutilizzati da altre strutture religiose pregevole e anche il rosone traforato in marmo bianco di carara il castello di rio maggiore detto castellazzo di cerrico si trova sul colle ed è una fortificazione opera dei fieschi risalente al xiii secolo di base quadrata presenta ancora oggi parte della cinta muraria e due torri circolari vicino al castello si trova l'oratorio di san rocco e san sebastiano con il trittico dedicato alla madonna e a questi due santi attribuita al famoso maestro delle cinque terre guardate